Ciao, sono Matteo, ho 30 anni e sono un architetto. Sono andato a Parma ma mi sono spostato a Torino per studiare e mi piace il calcio, viaggiare e l'arte, l'arte e l'architettura. Buongiorno, sono Angela Duzel, architetto. Nel 2016 mi sono laureata con l'Ode in architettura per la sostenibilità al Politecnico di Torino. Ho proseguito il mio percorso di studi con un master in BIM e attualmente ricopro il ruolo di BIM coordinator presso lo studio Antonio Citterio e Patricia Vielle di Milano. Ho scelto Torino e in particolare il corso in architettura per il progetto sostenibile perché cercavo un corso che trattasse i temi della sostenibilità nelle tre declinazioni e allo stesso tempo mi desse delle competenze specifiche sugli edifici ad alte prestazioni energetiche. Diciamo che a distanza ormai da tre anni dalla mia laurea si è rivelata una scelta molto vantaggiosa perché ho avuto la possibilità di lavorare subito su questi temi. Scegliere di intraprendere la facoltà di architettura è stata una scelta di cuore, in particolare la magistrale in architettura per la sostenibilità si concentra sulla formazione di futuri professionisti con un focus importante sull'ambiente e sull'utilizzo di materiali sostenibili. Sicuramente le esperienze a livello internazionale, infatti durante il corso di laurea magistrale ho avuto la possibilità di partecipare a un workshop internazionale in collaborazione con l'Università di Perth e l'anno successivo di svolgere la tesi all'estero passando sei mesi a New York con un'esperienza altamente formativa. Durante il mio percorso di studi le esperienze più stimolanti sono state senza dubbio gli atelier di progettazione e i laboratori che oltre a educare al confronto e al lavoro di squadra mi hanno insegnato come la gestione contemporanea di più discipline crei un approccio virtuoso destinato a migliorare il progetto nella sua interezza. Sicuramente finire il corso di dottorato che ho iniziato circa un anno fa e continuare a combinare quelli che sono gli aspetti legati alla ricerca e alla professione. Nel mio futuro vedo una crescita continua che mi porterà a diventare un project manager in grado di gestire tutti gli aspetti importanti di una commessa.